Chi garantisce la polizia locale? Chi è che controlla i soliti furbetti o coloro che dimenticano la mascherina e che dimenticano questa ordinanza? Chi deve controllare? E poi finiamo. Sì, sindaco, sì, mi scappa il sì. No, sindaco, un attimo. Cosa è successo? Ma portate via la... Cosa? C'è cosa? In diretta, in diretta, il sindaco Scullin aveva appoggiato qui alla panchina, davvero, la giacca, si è girato e mi ha detto me l'hanno portata via. Diretta, davvero. Sindaco. Mi faccio il conto. No, no, a me no, anche lei stia attento eventualmente. Detto questo, una domanda da studio, poi vi ridiamo la linea. Chi è che garantisce l'osservanza alla sua ordinanza? Quindi dalla polizia locale, immagino. Tutte le persone d'ordine, dalla polizia locale, come d'abitudine.